non vale la raffica colpito l'hanno preso Lughi? si è un fettano colpito no corto che male non mi sembra può darsi dai colpito dai no no colpito 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 male colpito male colpito colpito sto spando ad armi infatti oh sei troppo vicino fermo minchia anche male mi ha fatto male ti ha finito il gioco ma con la pistola mi ha fatto male anche a me non hai finito la gamba grazie a tutti grazie a tutti